Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buonasera, 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 buonasera. Allora, video di oggi. Aspettate un attimo, aspettate. Sì, un attimo arrivo che faccio il video arrivo. Buonasera, 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 buonasera. E siamo qua all'aggambato con il mio dico Luca che mi è venuto a trovare. Vedete il bello del web, ci si conosce, fra fratelli rossoneri. E domenica risorgeremo. Lo mettete anche a Lettre Cupitali anche, che risorgeremo domenica. Ragazzi, allora, lui non ha bisogno della mia pubblicità ovviamente, però continuatevi a iscrivere a suo canale. E facciamo soprattutto crescere il canale di Luca che finalmente ha perso, senza, con tutto rispetto, sul suo canale vecchio che, vedete, fa vedere il mare, i laghi, le cose, però noi vogliamo da Luca un canale di calcio. Esatto, infatti l'ho aperto. Luca Zed 1899. Lui si è già iscritto, ragazzi, quindi fate come lui. Quindi seguiamo anche le orme del Rasta, andiamo pure sul canale di Lucchino, ok ragazzi? Poi io parlerò della parita, parlerò domani. E niente, comunque volevamo fare questo sketch insieme, grande Luca che è venuto a salutare. Niente, salutiamo i nostri amici. Sì, allora, ciao a tutti, continuate con le iscrizioni, Luca Zed 1899 e Alex Restelli. Alex Restelli, rosso nero. Ciao ragazzi. Ciao.